Aiutare in questo momento complicato a rendere più semplice la vita di chi oltre alla paura del coronavirus deve fare i conti con le difficoltà economiche. Prosegue con risultati davvero sorprendenti l'iniziativa Saniti Solidali, in sostanza una rete per fronteggiare l'emergenza economica che tante persone in questo periodo stanno vivendo. E dunque attraverso una pagina Facebook la raccolta di richieste di aiuto a cui venire incontro. È un'idea che è nata il 27 di marzo, è stato un appello su Facebook per aiutare qualcuno in difficoltà a fare la spesa. Siccome le richieste erano tante e è una cosa che da solo non si può fare, ho creato questo gruppo di amici, persone che già nel 2015 durante l'alluvione hanno risposto presente e mi sono circondato questi amici che è un team veramente perfetto di tutte le estrazioni sociali. Siamo riusciti a fare 180 interventi fino ad oggi, quindi un discreto numero, quasi 7 mila euro di viveri distribuiti. In pochi giorni la pagina ha superato i mille mi piace, quindi abbiamo ricevuto molti contatti e in circa 10 giorni siamo arrivati ad effettuare 171 interventi. Abbiamo aiutato oltre 150 famiglie, abbiamo ricevuto anche un grande riscontro da parte delle persone che ci vogliono aiutare, molti supermercati, privati cittadini, con trasparenza raccogliendo numeri, analizzando numeri e soprattutto dimostrando a loro che le donazioni effettuate non vengano disperse.